E siamo qui al Motor Show, no, Moto Days 2013 di Roma, emozionato da zittanta bellezza, viene dal paese appunto di Dante Alighieri, da dove? Firenze. Da Firenze, dillo un'altra volta. Firenze. Ecco, come si parla in italiano. Senti, ti piace Roma? Sì. Hai visitato un po' Roma? Purtroppo siamo arrivate ieri e non c'è stato molto tempo per visitare la città. Siamo arrivate ieri. Sì, come sapete, sto imparandoli del vero italiano. Senti, complimenti per la tua bellezza. E tu sei una, diciamo, stai rappresentando la Honda qui. Sì, sì, esatto. Quindi niente poco di meno che la Honda, è nello stand più grande di tutto il Moto Days 2013. E tu hai una moto? Purtroppo no. Purtroppo ancora no, ma sei giovane. No, ancora no, 21, 21 anni. Quindi hai ancora tempo per prendere la patente, la moto e tutto quanto. E' uno scooter neanche? Sì, il motorino. Il motorino. C'è il tuo ragazzo che ha la moto? Sì. Uno dei tuoi tanti ragazzi? No, no, uno solo. Uno solo. Ok, ti ringraziamo. Il tuo nome, ripetiamolo di nuovo? Sara. Sara, ok, grazie Sara. Grazie. Ciao. 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 Ciao.